Buonasera a tutti, buonasera ascoltatori di Spazio Tesla. Questa sera siamo qui per un nuovo appuntamento, anzi vogliamo ringraziarvi perché siete aumentati come nostri spettatori, quindi è un grazie a tutti voi per quello che appunto ci sostenete e anche stasera andiamo avanti con il nostro progetto La religione oltre la religione. Quindi abbiamo un lama qui con noi stasera e vorrei invitare subito Elena che è la coordinatrice di questo progetto ad introdurci il personaggio che stasera è qua con noi. Buonasera a tutti, grazie, benvenuti, grazie a chi partecipa, chi organizza, chi ascolta. Siamo al quarto incontro con un altro ospite d'eccezione. Abbiamo Lama Michel Rinpoché. Lama significa maestro, Michel è il nome e anche il nome di un arcangelo e Rinpoché significa prezioso. È successore dell'ama Gange Rinpoché e quindi è responsabile del monastero di Albaniano, di tutti i monasteri in Italia e anche dei monasteri nel mondo. Io da anni seguo i suoi insegnamenti e vi posso garantire che nel monastero di Albaniano ci può percepire un'energia di pace, di coerenza e di rettitudine dove veramente si può dire che là si prende rifugio. Il nostro lama a 12 anni ha scelto di intraprendere proprio la vita monastica, vocazione, chiamata o anche reincarnazione di un grande maestro. Ecco, sicuramente è una vita molto molto speciale e noi saremo veramente onorati e lieti di avere la sua esperienza e anche il suo lignaggio. Grazie. Grazie a voi, sono contento di poter essere qui con voi per poter condividere un pochettino che sia dell'esperienza, della conoscenza, di quello che si fa. Noi abbiamo letto un po' di cose riguardo alla sua infanzia, a quello che è stata proprio la sua storia. Si sente di raccontare un pochino come è nata la sua esperienza proprio di Monaco, di Lama? Io vengo da una famiglia dove mio padre è di una famiglia tradizionale ebrea, mia madre è di una famiglia tradizionale cristiana protestante, per essere più precisi presbiteriana. Da piccolo ho sempre avuto un'educazione religiosa, un po' se andavo ogni tanto in chiesa, ogni tanto in sinagoga. Però quando io avevo cinque anni, Lama Ganci Rempoci, il mio maestro, è venuto in Brasile per la prima volta e i miei genitori hanno partecipato nell'aiutare ad organizzare la sua visita in Brasile. E quindi ci siamo conosciuti. E io da piccolino, la prima volta che ho visto Lama Ganci, mi sono innamorato, ho voluto stare con lui ovunque lui fossi, partecipavo a tutti gli insegnamenti, anche se non è che capivo chissà che cosa. E i miei genitori hanno cominciato a seguire gli insegnamenti dell'Ama Ganci, mia madre ha aiutato a aprire il primo centro dell'Ama Ganci in Occidente, il primo ovviamente in Brasile. E così ogni anno si è mantenuto questo rapporto. Poi quando avevo intorno agli otto anni mi hanno detto, ah tu sei la reincarnazione di un maestro tibetano, questo è l'Ama Ganci e altri maestri. La mia risposta è sempre stato grazie. Tanto io sono e sono sempre stato un po' scettico, nel senso che io non sono uno che studia a mistificare troppo le cose. E perciò ho detto quello che è sarà sarà, però io sono chi sono, non cambia molto. Però invece quando avevo tra gli undici e i dodici anni ho cominciato a pormi delle domande che per me erano importanti. La domanda principale che io mi mettevo era, ok sono qua, vado a scuola, io vengo da una famiglia benestante dove non mi è mai mancato nulla. La domanda era studio, matematica, geografia, portoghese in Brasile, tutto quello che si studia a scuola, per che cosa? L'unica risposta all'epoca che ho trovato è studio tutto questo per finire la scuola, andare all'università e se tutto mi va bene trovare un lavoro che mi piace e guadagno bene. E quando vedevo le persone intorno a me della mia famiglia, persone benestanti che avevano, si erano laureati nelle migliori università, avevano ottimi lavori e tutto il resto, li vedevo e non li vedevo veramente felici. Quando li sentivo parlare tra di loro nelle feste di famiglia, piuttosto che, li vedevo molto spesso lamentarsi e non li vedevo soddisfatti. E ogni volta che incontravo il mio maestro Lamaganchi, trovavo una persona felice, soddisfatta, equilibrata, gioiosa. E quindi io mi sono detto, voglio essere come lui. Lui è stato il mio esempio di vita. E perciò, quando avevo 12 anni, ho deciso, faccio una lunga storia breve, ho deciso, voglio andare a seguire lo stesso percorso che lui ha seguito. Quindi vado in monastero. E quindi ho lasciato la vita in Brasile, sono entrato nel monastero di Sera, che è uno dei più grandi monasteri che esiste oggi nella tradizione buddista. Oggi, quando sono entrato io, c'erano intorno ai 3.000 monaci, questo nel sud dell'India, e ho intrapreso il percorso tradizionale di formazione di studi buddisti nella tradizione tretana. Dove sono stato? Lì per 12 anni. E quindi questo è stato un po', diciamo, dai 12 ai 24, ho vissuto in monastero in India, poi sono venuto in Italia, perché mio maestro Lamaganchi, mi stanno in Italia, sono venuto a stare vicino a lui, e poi ho finito un'altra parte degli studi andando in Tibet. Questo è un po' il percorso fino ad arrivare al giorno d'oggi, però sono andato in monastero perché non ero attratto dal buddismo, non ero attratto dal fatto che mi dicevano che dovevo fare una cosa o un'altra, ma mi ero innamorato di una persona e volevo essere come lui. Era più quello, era più la persona come esempio di vita che mi ha fatto fare questa scelta, che è una conoscenza particolare o una fede particolare. Bene. Questo, però, questa persona era collegata comunque a, diciamo, a una filosofia, a un pensiero, che poi dopo sicuramente è diventato parte integrante anche sua, ovviamente. Assolutamente sì, ovviamente Lamaganchi rappresentava e rappresenta ancora per me il sentiero buddista, la sua filosofia, le pratiche, e per fortuna io mi sono trovato benissimo all'interno della filosofia buddista, delle pratiche di meditazione, e ho dedicato tutta la mia vita appena oggi intorno a questa. Quindi ho fatto tutti gli studi della filosofia, delle tecniche di meditazione, ovviamente all'interno di un sistema, no? Io credo molto che ci sono tante religioni, all'interno di ogni religione ci sono tante tradizioni diverse e un profondo rispetto verso tutti. Però, come diceva un grande maestro buddista chiamato Atisha, lui diceva, rispetti tutte le tradizioni e segue quella che preferisce con determinazione. Quindi è un po' come cercare l'acqua scavando dei pozzi, puoi scavare su tanti punti, una volta che trovi l'acqua devi utilizzarla, è inutile continuare a scavare nuovi pozzi per cercarla ancora, ovviamente la troverai da altre parti. Io la mia acqua l'ho trovata, adesso la utilizzo, non vuol dire che altri che hanno trovato da un'altra parte sia meglio o peggio, semplicemente l'importante è che funzioni per ognuno di noi. E io, anche se mi sono avvicinato al buddismo, non per il buddismo ma per un esempio di vita, mi sono trovato perfettamente bene. È molto speciale questa risonanza e questa chiamata così netta e così determinata in un'età così giovanile, a 12 anni. Trovo che veramente sia una cosa molto particolare, molto importante e veramente qualcosa di veramente importante. È come se ci fosse, mi consenta, una predestinazione a. Perché sono un medico e sono pediatra, quindi di bambini ne vedo, ma non solo bambini, ma anche adulti hanno spesso le idee molto confuse, appunto alla ricerca di tante fonti, ma una determinazione così chiara, veramente credo che sia una benedizione, mi consenta. Nel senso che è molto importante, è come se ci fosse stata una via diretta senza confondersi e perdere tempo. Ecco, questa cosa che invece anche personalmente purtroppo a volte anch'io faccio, nel senso che ci sono molte cose che possono essere utili, che possono essere importanti, che possono aprirti delle finestre dal punto di vista spirituale in ognuno di noi, ma avere una chiarezza e un sentire così profondo trovo che sia veramente, io mi consenta il termine, davvero una benedizione molto grande. Grazie. Molto grande. Sì, sì, sicuro è molto importante in generale avere chiarezza, poi secondo me ci sono tanti percorsi possibili nella vita, io mi sono trovato bene in quello che ho scelto, non è stata una scelta fatta da un giorno all'altro, io sono una persona un po' lenta, nel senso che prima di prendere una decisione importante passa del tempo, devo riflettere, ci ho voluto più o meno un anno, tra gli 11 e i 12 anni, dove non parlavo con le persone, perché io non sono uno che devo dire quello che penso più di tanto, una volta presa la decisione per farmi cambiare idea ci vuole ancora tanto tempo, però lì ci è voluto più o meno un anno di tempo e poi sono andato avanti, però la cosa più forte che sentivo in tutto quello è che faceva senso, era la sensazione di che sto facendo la cosa giusta, anche se questo voleva dire cambiare di cultura, cambiare luogo dove vivevo, cambiare una vita, io venivo da una famiglia benestante, andare a fare una vita materialmente estremamente semplice, cose che dopo guardando indietro ho visto quello che c'era, quella differenza. Nel momento era così bello per me quello che facevo che non mi accorgevo niente per niente di tutto questo. Bene, quindi mai una volta ho avuto ripensamenti, ovviamente? No, mai su queste scelte fatte, mai mai. Poi ovviamente ho avuto i miei momenti di crisi in altri contesti, in altri aspetti, ma non su questo. Ho avuto dei miei momenti di crisi che riguardavano la religione in sé, perché mi sono trovato a un certo punto dinanzi a situazioni nelle quali, come posso dire, vedevo dei comportamenti da parte di persone nei monasteri o in altri contesti che non erano in accordo con quello che io ritenevo che fosse la cosa più importante e così via. Adesso non entro nei dettagli che è troppo lungo, però la risposta che ho trovato per me è stata una differenza in netta e chiara fra religione, istituzione religiosa e il sentiero spirituale. Certo. Il sentiero spirituale è il percorso interiore di ognuno di noi, al quale la religione è lo strumento che viene utilizzato a servizio del sentiero spirituale e l'istituzione religiosa è uno strumento utilizzato per mantenere in vita la religione stessa. Che tutti hanno la loro funzione e la loro importanza, però tutti devono essere a servizio del sentiero spirituale. Quando ho capito questo, per me le cose sono chiarite e sono andato avanti. Perfetto. Grazie. Grazie ancora. A proposito di crisi, allora io direi che siamo in un momento di crisi dove tutto è in crisi. La nostra fede cristiana, io appunto ho delle radici, noi abbiamo radici cristiane, ci hanno sempre chiesto e ci chiedono tuttora di avere fede, ma la fede da sola sembra non bastare o meglio potrebbe anche essere un superpotere, se abbinato però a un percorso di autoconoscenza. E seguendo anche i suoi insegnamenti ho visto che proprio la tradizione buddista dà degli insegnamenti, degli strumenti concreti. Permette all'uomo di fare un'azione, un'azione concreta e di responsabilità per uscire dal dolore. Il Buddha dice c'è il dolore, ma vi do gli strumenti per uscirne. Non si può soltanto dire di cunave Maria, perché di cunave Maria continuo a fare la vittima della situazione, non esco più. È come se fosse un paradigma obsoleto. Viene da dire che, poi lei mi correga, ma il paradigma vecchio era prego, spero e aspetto. Adesso, e mi correga, potrebbe essere lavoro su di me, medito e poi agisco. Questo potrebbe essere un modo? Lei cosa ne pensa? Non so se si può rispondere in poche parole. Prima di tutto c'è una differenza importante, sono tante differenze e tante similitudini tra le varie tradizioni religiose. Io non sono la persona giusta per poter parlare e giudicare altre religioni come la cristiana, perché non la conosco abbastanza. Non ho mai avuto una formazione giusta. Però una cosa che mi sono accorto è che qualunque religione, dal momento nel quale c'è un approccio di massa, inevitabilmente vanno fatti dei dogma e certe cose vanno semplificate in un modo fin proprio. Anche il buddismo, quando il buddismo ha avuto un approccio di massa, per tantissime persone, va semplificato. Fai questo che ti va bene, fai quello che ti va male, punto. Non c'è la spiegazione del perché, il come, la parte più psicologica, eccetera. Quindi l'approccio del buddismo che noi riceviamo nell'Occidente, almeno del buddismo tibetano che è di quello di cui posso parlare, viene perché i maestri che hanno portato erano un po' la creme della creme, erano i migliori fra i maestri che c'erano, che sono venuti in Occidente all'inizio. Ormai non è proprio così, però la prima ondata è stata quella. E quindi abbiamo ricevuto gli insegnamenti nel modo più puro e più eccellente, effettivamente. Quando diventa una cosa di massa, si va a semplificare fin troppo. Perciò anche nella tradizione buddista, magari nel Tibet in certi posti, o in altri paesi, in Thailandia, piuttosto che in Sri Lanka, eccetera, andiamo a trovare cose simili, preghi e ti risolvi, abbi fede e va tutto bene. Magari troveremo anche questo. Quindi questo per dire che non è un discorso, dal mio punto di vista, di una religione o di un'altra. Quello che io credo è che la società nella quale noi viviamo oggi, è una società nella quale noi abbiamo un alto livello di conoscenza, abbiamo accetto tante informazioni, e il discorso prega e basta non funziona. Il punto più importante risultato è dove arriviamo. Una persona in un altro contesto sociale, culturale, in altri tempi, probabilmente magari dire ok, prego e con quello mi fa connettere in qualche modo e la cosa funzionava. Oggi, nei tempi in cui noi ci troviamo, questo non funziona più. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con il discorso che è un paradigma che già non può più essere sostenuto. Nella tradizione del buddismo, questo processo di guarigione, chiamiamo così, avviene tramite tre strumenti principali che noi abbiamo, che viene chiamato la visione, la condotta e la familiarizzazione. ossia abbiamo bisogno, uno, di avere, fare un cambio concettuale, vedere le cose in un altro modo, comprendere, capire, capire se stessi, capire l'altro, capire la realtà nella quale noi ci troviamo, comprendere i meccanismi della nostra mente e tutto questo. Una volta che abbiamo una buona comprensione, abbiamo bisogno a quel punto di applicare la nostra condotta quotidiana in un modo coerente con quello che noi capiamo, con quella visione che noi abbiamo. E per riuscire a fare questo c'è tutto il processo di meditazione, ossia di familiarizzazione della mente, con quegli stati di coscienza virtuosi che noi vogliamo sviluppare. Perciò c'è bisogno di autoconoscenza, c'è bisogno di tanta fiducia in se stessi, no? Noi diciamo che la fede, io devo avere fede nel Buddha, nel buddismo, però la stessa fede che ho nel Buddha, o devo avere anche la stessa fede verso di me che io posso diventare un Buddha, non basta avere fede nell'altro, io devo avere fiducia in me stesso. Come quando vado da un medico, io devo avere fiducia nel medico che mi darà il giusto diagnostico, devo avere fiducia nella medicina, che è la medicina giusta per me, e fiducia negli infermieri che mi aiutano. Ma se io non ho fiducia in me stesso che posso guarire, non prenderò mai quelle medicine difficili. Quindi è molto importante la fiducia in se stessi. Io ce la posso fare, io ho la capacità, ho bisogno di aiuto perché da solo non ce la faccio, quindi ho bisogno di chi mi insegni, ho bisogno dei metodi da praticare, ho bisogno di chi mi sostiene, però la guarigione, il processo di crescita avviene tramite il mio proprio sforzo e il mio potenziale. Quindi la fede è molto importante, però dobbiamo anche andare a vedere che cosa intendiamo per fede, in che cosa abbiamo fede. Nel buddismo la fede vuol dire credere nell'esistenza, nelle qualità e nel potenziale di qualcosa. Per esempio, quando abbiamo 87, abbiamo fede nell'acqua, noi crediamo che l'acqua esiste, crediamo nelle capacità dell'acqua, nelle qualità e nel potenziale di eliminare la sete. Similmente a questo, la fede verso di Buddha, non è che Buddha ci risolve la vita, è che Buddha ci ha trasmesso degli insegnamenti e quegli insegnamenti, se applicati nel modo corretto nella nostra vita, ci possono aiutare a uscire dalla nostra propria sofferenza. Quindi, aver la fede, nel senso io mi affido a te e fai tu per me, questo nel buddismo non funziona. Se posso dire, non funziona in nessun modo, non solo nel buddismo, nel senso che mi viene da dire che appunto a volte si confonde la fede con il credo. Cioè la fede non è il credo, cioè tu puoi credere in tante cose, ma la fede mi viene da dire che è proprio un atto di fede, è uno stato d'animo che devi creare dentro di te, l'animo che ha fede e la pone poi in essere questa fiducia. Quindi sì, nel senso che posso avere fede e credere in Buddha oppure in Cristo, ma se dentro di me non attivo i meccanismi interiori della fede, sarà difficile ottenere i risultati. Questa fiducia è molto importante, avere fiducia in se stessi, avere fiducia che le cose potranno andare bene, avere fiducia che noi possiamo risolvere i problemi, che le malattie si possono guarire, che le cose possono andare bene. Questa fiducia io credo che sia molto importante. Poi ovviamente questo va con esso che una volta che io metto un obiettivo, c'è tutto il percorso necessario e io faccio parte di quel percorso. Questo è importante. Vede, noi abbiamo voluto questi incontri con i grandi esponenti, di grandi tradizioni, proprio perché abbiamo cercato di connettere. Mi ricordo quando Panikar diceva che più che religione parlerebbe di connessione, connessione con tutto l'infinito che è anche Dio. Allora, se noi incominciamo ad avere un linguaggio che è universale, che viene spogliato dal torto, dalla ragione o dalle cose personali, c'è proprio una modalità o la sensazione che va verso un linguaggio universale che è verso l'uno, verso l'uno a cui tutti noi apparteniamo e che permette di poter prendere il meglio, per poter avere un dialogo anche con i giovani, che c'è questa grande crisi anche della religione, tra i giovani che non riescono a trovare dei punti di riferimento. Se in questa sorta di divisione che c'è nella politica, c'è nelle persone, se almeno tra persone che parlano d'amore, che parlano di aiuto, che parlano di crescita, c'è un linguaggio comune, si dà anche più fiducia. Io ho questa sensazione. Perché ci sia l'unione, una delle cose importanti è che ognuno che rappresenta una religione piuttosto che un'altra abbia molta fiducia anche nel proprio percorso. Perché io mi sono trovato con persone di religione molto diverse e ogni volta che io mi sono trovato dinanzi a persone che avevano molta fiducia e stavano molto bene nel loro proprio percorso, nella loro propria tradizione di appartenenza, non hanno mai avuto paura dell'altro o difficoltà di confrontarsi con l'altro. Ma al contrario, piacere. Perché quando io sto bene con me stesso, dove io sono, e io vado a incontrare qualcuno che ha degli aspetti diversi, quello va a rafforzare me stesso, mi va a arricchire. E però è molto importante che chi in qualche modo rappresenta una tradizione spirituale, in mio caso mi trovo a parte a rappresentare una tradizione spirituale, è importante che fra di noi ci dobbiamo parlare e dobbiamo più che parlare sederci e mangiare insieme, dobbiamo far vedere che in realtà noi non abbiamo problemi fra di noi perché in realtà non ci sono problemi fra di noi. questo è molto, molto chiaro. E noi abbiamo bisogno di questa unione. Però per me, anche la crisi che parla dei giorni, una cosa importante è che tante persone hanno perso un po' il senso del perché della religione. Uno fa fatica a capire ma che cosa mi serve? Viene vista in certi casi più come qualcosa che vada a limitare che a uno strumento per aiutarci. però è fondamentale comprendere che la spiritualità non è una scelta, non è un in più, è una necessità dell'essere umano. Poi, se uno vuole seguire una religione o meno, è una scelta, però la spiritualità è una necessità. Io per spiritualità intendo dire il percorso interiore di sviluppo delle nostre qualità, quelli che trascendono la materia. E questa è una necessità che tutti noi abbiamo. E quindi, questo è un punto che secondo me va sempre di più condiviso e poi va lasciato aperto. Uno che vuole sviluppare l'amore tramite una religione piuttosto che tramite un'altra o senza dover affidarsi a una religione in particolare, va benissimo. Io dico, io non ho nessun attaccamento che di vivere in un mondo buddista. Non voglio che il mondo sia un mondo buddista, neanche che l'Italia o il piccolo paese dove io sia un paese buddista. Però io ci tengo tanto che sia un mondo dove ci sia più rispetto, più gratitudine, più amore, più soddisfazione e così via. Questo assolutamente sì. Ed è un ruolo, secondo me, delle religioni di dare importanza a quello che trascende la religione stessa. Lei ha fatto un grande lavoro rispetto a questo perché proprio i suoi insegnamenti sono proprio calibrati e sono proprio azioni da fare quotidiane perché il cambiamento avviene solo se facciamo qualcosa, appunto, non cade dal cielo. Quindi, se uno ha un percorso e sente risonanza, è importante anche che però senti una risonanza perché qualche cosa ci risuona dentro e ci fa come è caduto a lei, poteva diventare un rabbino, invece, un essere umano perché è proprio l'essere umano che, come gli insegnanti a scuola, se il professore è innamorato della sua materia, passa sicuramente agli insegnanti il desiderio di imparare e i ragazzi per forza sono bravi, mentre invece se si va a parlare tanto per parlare, anche i ragazzi perdono un pochettino la poesia, io direi. Quindi, il suo insegnamento così costante è anche con una metodica e la tradizione buddista ha proprio un metodo che è quasi, direi, razionale, proprio, ti dà degli strumenti, mettili in pratica e ti aiuta a uscire da questa sofferenza. Ragazzi? No, il metodo è fondamentale e l'insegnamento deve essere coerente, no? Una delle qualità che noi dobbiamo cercare in qualcuno che ci insegni, che io nel mio piccolo cerco di mettere in pratica, è che chi insegna deve vivere in accordo con ciò che insegna. Io non posso insegnare qualcosa se non ci credo e non lo pratico. Questo è un discorso. Poi il secondo discorso che viene insieme è, a livello mio personale, di come è fatto, io non mi ritengo una persona religiosa inteso come la religione in sé per sé. Per me la religione in sé per sé non ha un grande valore. Quello che è il valore è come uno strumento per qualcosa che vale molto di più. E quindi quando mi trovo davanti a una persona io non ho l'intenzione che questa persona sia buddista. Ho l'intenzione che questa persona possa avere una visione più coerente del mondo, che questa persona possa riuscire a relazionarsi meglio con la sua famiglia, con i suoi amici e trovare più senso nella sua vita, che questa persona riesca ad essere più generosa, che riesca ad essere più in pace con se stessa. Poi, se lo vuole fare, tramite gli strumenti che il buddismo offre e che io posso condividere, con grande gioia si fa questo. Però è molto importante che quando noi ci troviamo a dover parlare alle persone, dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo qualcuno che ha servizio di chi ascolta. Questo è fondamentale, perché se io parlo a qualcuno e io in realtà sto parlando a me stesso, personalmente preferisco star zitto. ma se io invece sto parlando a qualcuno, io devo dare priorità a chi ascolta e alle loro necessità e devo cercare di vedere come posso trasmettere qualcosa che sia utile e di beneficio a loro. Quindi, quello che dicevi prima di fare le cose pratiche, eccetera, perché la vita è fatta di cose pratiche, è fatta della quotidianità, è fatta delle piccole situazioni con la famiglia, nel lavoro, delle nostre piccole menate, piuttosto che cose bellissime che abbiamo, no? Però dobbiamo proprio andare su questo. Poi, io ho studiato la filosofia budista in un modo molto tradizionale, molto accademico, volendo dire così anche, no? Però, se io dovesse insegnare oggi, nello stesso modo come io ho studiato, sono sicuro che alla fine si rimangono in tre ad ascoltare. Perché il contesto è molto diverso e il mio obiettivo non è avere mille, il mio obiettivo è dare qualcosa che sia utile alle persone, tutto lì. Quindi, un insegnamento che va costantemente concretizzato, questo credo che sia, nella vita quotidiana, di tutti i giorni, negli incontri che facciamo, in quello che facciamo. Perché, molto spesso, appunto, perdendo un po' il senso di quello che è la vita quotidiana, ci si chiede, appunto, ma perché faccio questo, perché vado al lavoro tutte le mattine. Quindi, c'è anche una sensazione molto spesso di peso per chi non ha una certa consapevolezza. Quindi, non so se può aiutarci in poche parole, se c'è, appunto, un mezzo, un modo per trovare senso in quello che facciamo ogni giorno. Quale frase dobbiamo ricordarci, a quale parte dobbiamo connetterci, se è possibile farlo in... Cerco di farlo in un modo breve. Grazie. Perché soprattutto, una volta che noi scegliamo di seguire un sentiero spirituale, non si può discernere, far la divisione fra pratica spirituale, lavoro, famiglia, divertimento, non si può. Il discorso spirituale va vissuto in ogni manifestazione della nostra vita. Questa è una cosa. E dov'è che va vissuto principalmente il sentiero spirituale? Nella famiglia, nel lavoro, quando uno va in chiesa, quando uno va al tempio, quando uno si siede per pregare o per meditare, quello è il momento in cui andiamo a dare una forza in più, andiamo a connetterci, è come andare a far benzina. Però la vera pratica è in tutto il resto. Perciò, uno dei punti che aiuta a comprendere questo meglio è che la cosa importante nella nostra vita non è tanto cosa facciamo, ma è ancora più importante come lo facciamo. L'ultima volta lezione che stavo dando facevo l'esempio nel lavoro come fare in modo che il proprio lavoro faccia parte di un sentiero spirituale. Per fare un esempio banalissimo, una persona può essere un medico come lei ed è un lavoro molto nobile perché il medico con la giusta consapevolezza ha dinanzi a sé uno strumento per anche lo sviluppo spirituale meraviglioso perché ha una possibilità di mettere in atto l'amore, la consapevolezza verso l'altro, la compassione messa in pratica, aiutare gli altri, può fare tante cose molto belle. Però ancora, questo non dipende del lavoro, dipende come viene fatto perché se uno come medico arriva il paziente e vede come soldi in più che entrano in tasca e niente di più e niente di meno, quel lavoro non è più nobile dal modo in cui viene fatto. E prendiamo un altro lavoro che magari ho sempre, sempre penso a questo lavoro come un lavoro che a principio mi sembra un po' senza tanto senso che però si può dare un senso. Quello per esempio di chi lavora al casello autostradale. Tutti i giorni a dare un ticket da qualcuno a prendere i soldi per far passare la persona. Può sembrare il lavoro più privo di senso possibile da un certo punto di vista ma se mentre sono lì cerco di avere consapevolezza del momento presente ogni persona che passa cerco di desiderare il meglio per quella ovun che tu sti andando che il tuo viaggio vada bene desidero che tu sia felice io vado a coltivare amore mentre sto facendo quel lavoro lì. Quindi l'importante non è cosa facciamo ma come facciamo e come noi facciamo è importante in relazione a quelle azioni quotidiane quale qualità o quali aspetti interiore vanno a familiarizzare a coltivare a sviluppare perché noi dobbiamo le nostre qualità come amore come pazienza come rispetto come gratitudine generosità concentrazione stabilità sono le qualità che poi fanno la differenza nella vita e queste noi li dobbiamo coltivare nella nostra quotidianità nel rapporto con la famiglia con gli amici con il lavoro perciò se noi riusciamo a vedere la vita in generale come una sorta di palestra per sviluppare le nostre qualità dicendo in parole povere per la palestra per diventare un essere umano migliore quello già porta il significato a questo io non sto andando solo a lavorare io sto andando a vivere ogni momento stiamo vivendo non stiamo lavorando famiglia divertimento poi vado a pregare tutto questo è vita e la vita va vissuta con bellezza va vissuta con gioia e va vissuta con significato per me ogni incontro della nostra vita ogni luogo che andiamo ogni situazione che viviamo è un'opportunità che possiamo o meno cogliere per sviluppare delle qualità o sviluppare di più ancora delle cattive abitudini dipende come io vado a reagire come vado a relazionarmi in una situazione piuttosto che in un'altra quindi questo per me è molto importante per ognuno di noi di prendere questa consapevolezza ma per riuscire a fare questo bene è molto importante avere una visione di se stessi verso il futuro in cui uno dice cosa io voglio essere come vorrei essere io un domani ma io voglio essere più paziente voglio essere più rispettoso non voglio più reagire con invidia o con gelosia piuttosto che e dinanzi a questo andiamo a lavorare su queste cose ogni giorno in ogni opportunità che abbiamo e questo cambia il modo di vivere la vita perché quello che determina se una situazione è significativa o no non è la situazione in sé per sé ma è come noi stessi la viviamo certo quindi un esercizio costante ancora una volta nel senso che noi siamo abituati poi a vivere in un certo modo e quindi abbiamo anche dei circuiti viziati meccanici che ci possono catturare quindi l'importante mi sembra di capire è vedere quando siamo in questi meccanicismi e uscirne con consapevolezza riportandoci al centro ogni volta Nì nel senso che questo è importante però quello che diventa importante è che noi non riusciamo a uscire da certi meccanismi unicamente riconoscendo che quei meccanismi non vanno bene noi dobbiamo riconoscere ciò che non va bene le nostre cattive abitudini eccetera di corpo di parola di mente eccetera però poi dopo dobbiamo indirizzare la nostra energia verso quelle abitudini positive che vogliamo sviluppare un po' è come per dire se c'è l'oscurità non posso eliminare l'oscurità mettendo l'energia sull'oscurità devo trovare la luce ok quindi come si fa questo noi dobbiamo generare degli stati di coscienza virtuosi dei comportamenti positivi inizialmente artificiali non vuol dire falsi vuol dire che non sorgono in un modo spontaneo e naturale c'è una persona davanti a me inizialmente mi viene di reagire con indifferenza no invece mi ricordo che non devo essere indifferente quindi cerco di vedere l'altra persona e di agire con amore quindi faccio un percorso di riconoscere che anche l'altra persona vuole essere felice come me che anche l'altro non vuole soffrire cerco di vedere la sua necessità e di desiderare la sua felicità quando arrivo a quello stato di desiderare la sua felicità quindi sento un amore verso quella persona è sincero però non è nato in un modo spontaneo e naturale ho dovuto fare un processo per arrivare a quello però più volte riesco a generare questi stati di coscienza chiamiamo così virtuosi in un modo artificiale gradualmente diventano naturali perfetto ok grazie prego questo è molto molto chiaro non so Elena quanto tempo abbiamo ancora? 20 minuti però io però sapete che devo fare all'ama la domanda che abbiamo fatto devo proprio attingere alla sua capacità di sintesi perché la domanda che abbiamo fatto a tutti gli altri relatori è se nella nella visione dei suoi studi può parlarci del senso di colpa del peccato vado avanti resurrezione e reincarnazione giusto per avere un minimo di differenziazione tra le altre le altre culture se è possibile ok senso di colpa cominciamo dal primo il senso di colpa nella lingua tibetana io tutti gli studi li ho fatto in tibetano perché gli studi sulla filosofia buddista li ho fatti tutti in tibetano non esiste la parola senso di colpa mi sento il senso di colpa non è una parola che esiste esiste molto forte il senso di riconoscere che un certo comportamento o una certa azione non faccia bene a me e agli altri quindi a mettere apertamente i propri errori questa è una cosa importante riconoscendo però che io ho fatto quello perché perché in fondo io sono ignorante perché ho le mie attrazioni le mie aversioni la gelosia l'invidia e sono qua non sono ancora un essere perfetto un buddha quindi io mi devo accogliere a me stesso e darmi una giusta direzione da seguire non esiste il concetto di dover sentirsi in colpa per i miei errori o per i miei comportamenti che riconosco che non vanno bene quello assolutamente non non fa parte del del percorso e degli insegnamenti nel senso di colpa è una cosa che difficilmente all'interno di un contesto di insegnamenti buddhisti uno andrà a sentire parlare di senso di colpa perché non fa parte proprio in questo senso quello che esiste è il senso di responsabilità delle proprie azioni dove io riconosco che certe azioni certi comportamenti non vanno bene e quindi mi impegno a cambiare i miei comportamenti quindi io mi accolgo dal passato al presente e mi direziono verso il futuro in cui io voglio andare e questo è un po' poche parole ovviamente quando il buddismo arriva in occidente dove uno viene da una base culturale dove c'è già il senso di colpa è tutta un'altra storia come dover adattare eccetera però nel buddismo in sé questo è un aspetto che non fa parte la seconda domanda riguardava il peccato è difficile utilizzare noi di solito nel buddismo non utilizziamo la parola peccato semplicemente perché il concetto è un po' diverso per esempio della religione cristiana e una delle grosse difficoltà che c'è nel buddismo in occidente sono le parole perché le parole molto spesso nella nostra lingua sono state sviluppate all'interno di un contesto filosofico religioso culturale diverso di quello buddista nei secoli tibetani in India in Tibet eccetera quindi si cerca di utilizzare altre parole però il concetto di peccato se noi andiamo un po' all'etimologia stessa della parola se non mi sbaglio vuol dire errore quindi nel buddismo quello che si assomiglia di più al peccato è quello che sono delle azioni che possono essere fisiche possono essere verbali o possono essere di pensiero che creano un'interdipendenza negativa sono azioni che quando manifestano i loro risultati si manifestano come sofferenza conflitto dolore e queste sono le tipologie di azioni che vanno evitate quello che si assomiglia di più al peccato è che quando io compio un'azione che viene utilizzata la parola karma ma karma letteralmente vuol dire azione non è destino quando io compio un'azione una volta che quell'azione si è conclusa quindi ho detto una parola ho fatto qualcosa ho finito rimane in me una sorta di inerzia quello che viene chiamato la forza karmica è una forza che rimane con me di quell'azione che io ho compiuto in altre parole vuol dire che nel momento presente è fatto delle scelte fatte nel passato che si vanno a sommare con le condizioni presente nel momento presente ok noi non siamo liberi dal nostro passato e dalle scelte e dalle azioni che noi abbiamo compiuto nel nostro passato ok sia nel bene che nel male quindi quelle azioni che noi abbiamo compiuto nel passato che oggi si manifestano quando si manifestano si manifestano nella forma di sofferenza vengono chiamate di solito azioni negative e noi dobbiamo cercare di evitarle e Buddha in diversi insegnamenti ha descritto queste azioni che poi dipende molto del contesto dipende della motivazione però in grande linee generalizzando sono azioni come rubare come uccidere come avere una condotta sessuale scorretta come c'è la parte di mentire usare la parola in un modo violento creare divisione fra le persone desiderare la sofferenza negli altri questi sono alcuni esempi di quelli che vengono chiamati azioni non virtuose ok poi non esiste il concetto di ho fatto un'azione non virtuosa devo chiedere il perdono a qualcuno se ottengo il perdono quell'azione si è divinata esiste un processo di purificazione ossia se io ho compiuto un'azione che è nella sua natura negativa perché l'ho compiuta con rabbia con odio con invidia con gelosia ho generato sofferenza negli altri ho compiuto un'azione che ha generato comunque conflitto e tutto il resto quella forza karmica rimane come io per eliminare quello devo uno avere la consapevolezza che quell'azione era un'azione sbagliata quindi questa è la prima parte che ha un po' di pentimento in qualche modo che vuol dire sviluppare una consapevolezza che quell'azione non andava fatta che è stato un errore in qualche modo poi la cosa più importante è che io devo generare un forte impegno a non ripetere più quell'azione e poi terzo devo fare qualcosa di positivo per contrastare quella cosa negativa che ho fatto nel passato questo è il modo in cui si può purificare ok quindi adesso il concetto di peccato vuol dire noi viviamo in una realtà interdipendente dove ogni azione che noi compiamo non finisce in se stessa e noi siamo responsabili per ciò che noi stessi viviamo quindi se agiamo in un modo che va a creare un'interdipendenza positiva ci viene meglio se agiamo in un modo che va a creare un'interdipendenza negativa viviamo i suoi risultati e questo principalmente ok bene la terza domanda era la ressurrezione e la reincarnazione perché sono due parole che la ressurrezione ce l'abbiamo nel cristianesimo come che ha una visione diversa però ci sono queste due parole potrebbero anche avere un'assonanza e quindi volevamo capire con lei come poter mettere insieme la prima il primo punto è che in tutte le tradizioni spirituali da quello che io ho potuto vedere fin dolci c'è un punto quando si parla di reincarnazione risurrezione eccetera c'è un punto che si accomunano che è che tutte le tradizioni credono in una continuità dopo la morte dell'individuo ok perciò siamo tutti d'accordo di una cosa che la morte non è la fine di tutta l'esistenza ma è la separazione del corpo di qualcosa che possiamo chiamare di anima che nel buddismo chiamiamo di continuo mentale mente molto sottile chiamiamo come vogliamo fatto sta che quando si muore qualcosa di grossolano del corpo finisce e c'è qualcosa che è sempre l'essere che mantiene l'identità dell'essere che continua come continua qua apriamo una storia c'è un altro punto di coerenza tra le varie tradizioni religiose che come si continua è in coerenza su come si è vissuto quindi i punti fermi sono la morte non è la fine di tutto e quello che succede a me dopo la mia morte è in coerenza con il modo in cui ho vissuto qui ok adesso se entriamo nei dettagli di come questo avviene secondo la tradizione budista possiamo passare delle ore a parlare però in poche parole quello che succede è che quando uno muore si lascia il corpo grossolano entra ad avere un corpo più sottile che è simile all'esperienza di un sogno per dire perché uno in un sogno può parlare può camminare può fare tante cose però non è con un corpo fisico simile a quello e a un certo punto può prendere la rinascita in un altro corpo grossolano ok la rinascita non deve avvenire necessariamente nella forma umana ma anche nella forma di animali o altre forme di vita e non è detto che da una vita ad un'altra uno deve sempre migliorare dipende da cosa come uno ha vissuto la vita e come uno è morto nel budismo il momento della morte è estremamente importante non dal punto di vista esterno se è stato un incidente una malattia se avevi dolore o meno ma lo stato interiore d'animo della persona nel momento della morte questo è fondamentale è molto molto importante dalla visione buddista che una persona possa morire in uno stato di pace con la mente che si vada a collegare con gli aspetti virtuosi non morire con odio con rabbia con rancore con paura l'importante è non morire in questi stati perché lo stato in cui uno muore è la condizione che si va a sommare con come uno ha vissuto e questo insieme adesso sto semplificando fin troppo va a determinare in gran parte come uno va a rincannare un altro aspetto importante nella visione del buddismo non esiste una cosa come una sorta di giudizio al momento della morte dove si mette in una bilancia le cose buone e le cose cattive più cose buone hai una buona rinascita più cose cattive hai una brutta rinascita non è così nel momento della morte a secondo della condizione ossia lo stato mentale in cui noi moriamo possiamo accedere a una cosa positiva o a una cosa negativa e che abbiamo creato una causa positiva o negativa quando rincarniamo quelle forze carmiche dell'altra vita ce le portiamo con noi quindi le azioni virtuose che io vado a creare in una vita finché non le consumo io le vado a portare con me di vita in vita la stessa cosa per quelle negative per quello che quando nasce un bambino che ha già dei problemi di salute piuttosto che altre cose non è tra virgolette di chi è la colpa se dovessimo utilizzare questo termine è di se stesso in un'altra vita che ha creato le cause che si stanno manifestando in questo momento in quanto bambino quindi da questa visione della reincarnazione un bambino quando nasce porta già con sé un bagaglio sia del suo carattere a un livello più sottile che da un punto di vista delle forze carmiche che ha generato nelle vite precedenti quindi questa è la reincarnazione la risurrezione secondo me nel buddismo è un termine che noi non utilizziamo ma che è molto simile al concetto di reincarnazione stessa poi che cosa si intende in ogni altra religione io sono la peggior persona per poterne parlare perché non ho una conoscenza giusta su questo però secondo me il punto fondamentale su questo è la consapevolezza che c'è continuità dopo la morte questa è una cosa la differenza principale magari che potrei anche dire è questa nella visione più occidentale anche religiosa abbiamo una visione lineare dove c'è la nascita punto A c'è la morte punto B e poi dopo ci può essere il punto C paradiso inferno però è lineare nella visione orientale buddista per esempio ma non solo buddista è una visione ciclica nella quale c'è il punto A che è la nascita c'è il punto B che è la morte però i due punti si incontrano e dopo il punto B ritorna il punto A quindi è una realtà ciclica continuamente la differenza è che in una realtà lineare la cosa importante è cosa faccio in una realtà ciclica la cosa importante è chi divento perciò nella visione buddista non è importante cosa ho fatto in questa vita la cosa importante è che sono morta una persona migliore di quella che è nata questo è il punto più importante alla fine e chi sono diventato più di che cosa ho fatto fino a c'è una conclusione di questa ciclicità? la conclusione non è che in un certo punto uno cessa di esistere però che noi oggi viviamo in una ciclicità nella quale non abbiamo libertà di scelta noi non abbiamo libertà di non morire o di dove rinascere o quando rinascere non abbiamo libertà perché siamo presi dalla nostra ignoranza dalle nostre attrazioni e le nostre avversioni che ci portano a non avere questa libertà l'obiettivo è raggiungere uno stato nel quale uno riesce a trascendere l'egoismo con un profondo amore verso gli altri verso si stessa trascendere la ignoranza sviluppandola a saggezza e quando uno raggiunge questo stato che viene chiamato anche la liberazione dal samsara adesso sono termini che comunque che esistono nel contesto buddista vuol dire che quando uno riesce a eliminare la propria ignoranza in un modo completo ha la libertà di scelta di dove e come reincarnare quindi non lo vive più in un modo senza libertà come è nel nostro caso almeno nel mio quindi quello che succede è che non esiste un momento nel quale finisce hai completato i cicli di vita adesso finito l'esistenza continua all'infinito anche perché un ciclo non ha né inizio né fine però adesso uno rimane in un modo senza libertà di scelta questa è la differenza ok chiarissimo grazie l'altro punto su questo che è una differenza fondamentale dal buddismo da altre tradizioni è che la domanda dove è tutto cominciato nel buddismo non si fa perché prima di chiedere dove è stato l'inizio di tutto si deve fare un'altra domanda c'è stato un inizio o no certo secondo la visione buddista no perché se ci fosse stato un inizio dovremmo trovare qualcosa che sia stato una causa ma che a sua volta in se stesso non è stato un risultato una causa primordiale in questo senso e nel buddismo tutto ciò che causa è anche risultato quindi non si riesce a trovare un inizio primordiale dell'esistenza è come un ciclo che non riesce a dire cominciato ok mentre nella visione cristiana la risurrezione ce la immaginiamo ce la raccontano anche come un completamento di un ciclo più materiale dove lo spirito si incarna ma in una visione di puro spirito dove c'è una compenetrazione con l'uno totale questa è un po' la visione che noi possiamo avere di risurrezione invece mi pare che appunto a livello nel buddismo appunto c'è continuamente o senz'altro una maggiore consapevolezza ma comunque una continua compenetrazione di questo spirito con una parte più materiale non necessariamente quello che succede è che quando un essere riesce a uscire dal ciclo del sensara dal ciclo di sofferenza questo essere può scegliere se vuole manifestarsi a un livello materiale o meno ok questo dipende dalla scelta dell'essere il stesso ok grazie grazie mille prego facciamo l'ultima l'ultima domandina ma domandina io ricordo una sua frase che mi ha fatto sorridere dice noi sappiamo che moriamo ma non ci crediamo infatti abbiamo questa idea nella nostra cultura occidentale non abbiamo proprio la capacità di ragionare sulla morte meno che meno morire e c'è una paura rimaniamo sempre molto è un momento della vita che crea solo ed esclusivamente sofferenza sarebbe bello poter fare un percorso insieme per vedere la morte come un ciclo al pari della nascita e questo al di là di come viene vista appunto per la maggior parte in occidente parlare di morte si dice sempre no no è meglio non parlarne ma invece potremmo dare molto più valore e senso alla vita perché sapendo che moriamo perché comunque è una realtà daremo veramente l'attenzione del qui e ora adesso espando il mio momento più possibile io non lo so se ci sono domani quindi anche tutta questa cosa che abbiamo vissuto con il coronavirus che è ancora la paura che dilaga se avessimo una coscienza della morte diversa forse avremmo avuto anche una reazione diversa lei cosa dice? la morte fa parte della vita dice che l'unica certezza che abbiamo quando si nasce è che dovremo morire il problema non è morire il vero problema è vivere male la difficoltà nell'affrontare la morte non è una cosa che riguarda solo i tempi moderni e non è una cosa che riguarda solo il mondo occidentale però diciamo che nei tempi moderni nel mondo occidentale siamo arrivati un po' al colmo è molto importante avere consapevolezza della propria mortalità ma per fare questo prima di tutto dobbiamo aver chiarezza di che cosa è la morte per me una volta mi trovavo in un taxi a Roma ero da solo il tassista mi guarda mi vedi ma tu vestito così che sei io ho cercato di spiegare non ha capito molto e a un certo punto il tassista mi chiede ma tu nella morte ci credi o no e ho detto che domanda strana uno ti chiede se tu credi nella morte io ho risposto a lui dicendo ma che cosa intendi tu per morte lui mi ha guardato ancora più strano e poi ho detto se la morte vuol dire la fine di tutto io non credo nella morte se la morte è un passaggio io credo nella morte però dobbiamo chiederci prima di tutto che cosa è la morte perché la morte di cui noi abbiamo tanta paura è la morte come la fine di tutto e dinanzi a questa visione di morte noi finiamo a vivere la vita badandoci su un'identità che è molto limitata a questo corpo a questa immagine a questa realtà fisica in cui noi ci troviamo in questo momento e quindi è ovvio che porta paura il senso di non esistere più di cessare di esistere eccetera perciò è importante riuscire a trascendere questo sviluppando un'identità che va al di là che non è ovvio c'è tutto un percorso per farlo nel budismo c'è tutta una parte strumenti per fare questo però si dice che un praticante buddista dovrebbe farsi una riflessione almeno una volta al giorno sulla morte e io la faccio con quattro domande la prima domanda è dovrò o no morire sembra banale però la risposta deve venire dal cuore dalla pancia non dalla testa di solito sì dovrò morire però rifacciamoci la domanda finché abbiamo la totale certezza sì dovrò morire seconda domanda quando la vera risposta non lo so però non lo so che comprende il giorno d'oggi o non lo so fra trent'anni dobbiamo un attimino vedere con noi stessi finché arriviamo a un non lo so che comprende il momento presente che comprende il giorno d'oggi e che non è mentale io lo sento questa certezza dell'incertezza del momento della morte terza domanda cosa porterei con me se io dovesse morire oggi chi sarei io dinanzi alla morte in questo momento oggi chi sono io dinanzi alla morte vuol dire quali sono gli aspetti che trascendono la morte il mio carattere i miei aspetti più profondi del mio essere la forza karmica che porto con me chi sono io togliendo di mezzo il corpo togliendo di mezzo i beni materiali le persone che ci stanno intorno togliendo di mezzo tutto quello che è esterno a me incluso il corpo incluso il livello di conoscenza concettuale a un livello più profondo chi sono e la quarta domanda è cosa sto facendo oggi per coltivare ciò che porterò con me per prendere cura di ciò che porterò con me e l'altra parte della domanda per dice prima era cosa porterò con me e cosa lascerò agli altri quindi io nella giornata di oggi cosa sto facendo per migliorare ciò che porterò con me e per migliorare ciò che lascerò agli altri e se noi viviamo con questa consapevolezza la vita si vive molto meglio e ogni giorno ha un valore diverso ha un gusto particolare ha un peso totalmente diverso certe cose hanno più importanza altre cose hanno un'importanza molto minore di quello che noi diamo di solito perciò una persona che vive bene muore bene e per vivere bene dobbiamo essere consapevoli della nostra morte secondo me quindi la mortalità è un bene non è un male la morte non è qualcosa della quale dobbiamo temere tanto perché non c'è scelta quello che noi dobbiamo più che altro temere è vivere la vita male vivere una vita priva di senso vivere una vita nella quale noi moriamo una persona peggio di quella che è nata dove non siamo riusciti a cogliere l'opportunità che ci è stata data questa è la cosa importante è sicuro se noi avessimo più consapevolezza della morte avremo un modo totalmente diverso di relazionarci anche con la morte da un punto di vista più pratico daremo più valore a prendere cura delle persone che stanno morendo non aver paura di parlare della morte anche in ospedale non vedere la morte come una sconfitta la morte non è una sconfitta vedere male sì la morte no quindi è una cosa che va accolta e va guidata e va direzionata e va aiutata e tutti noi dovremo prepararci per la nostra morte perché prima o poi accade è l'unica cosa certa dicono assolutamente sì e quindi è proprio bene prepararsi in modo positivo queste quattro domande che ha illustrato penso che siano un'ottima pratica per riuscire a dialogare con il proprio sé interiore e anche la domanda di cosa porterei con me appunto dopo la morte cosa lascerei agli altri è molto importante molto importante perché ti dà proprio il senso di chi vuoi essere non di quello che vuoi fare ma di chi vuoi veramente essere perché poi quello che siamo alla fine è quello che gli altri vedono perché giustamente io posso avere tante cose ma poi chi mi guarda vedrà cosa sono io realmente tutte le maschere le possiamo mettere ma difficilmente chi ci guarda non riesce a vedere oltre le maschere travo un'ultima osservazione che mi viene spontanea anche per il mestiere che faccio appunto alla luce di quello che ci ha detto appunto con queste domande con queste indicazioni preziose appunto come leggere anche questo periodo che stiamo vivendo se lo sarà ce l'avranno fatto mille volte questa domanda ma quindi come possiamo vivere questo periodo perché c'è una possibilità diversa al di là del terrore e della paura che io vedo e si sente attorno a noi ecco se possiamo concludere con questa domanda prima di tutto io personalmente cerco di vedere le cose anche da un punto di vista più ampio e se noi vediamo nella storia dell'umanità le epidemie ci sono sempre state in un altro sono cose che di tempo in tempo succedono e la realtà è ciclica non è sempre che va tutto bene delle cose vanno bene poi vanno male poi vanno bene però noi siamo in un periodo dove siamo la seconda terza generazione già dove grossi problemi non abbiamo ancora vissuti non ci sono state guerre in Italia in Brasile io sono brasiliani in Brasile in Italia in Europa grandi problemi di difficoltà economiche non li abbiamo ancora vissuti non ci sono stati conflitti veramente difficili perciò noi non possiamo uno aspettarci che nella nostra società andrà tutto sempre bene sarebbe benissimo però la realtà è una realtà ciclica di alti e bassi e quando una cosa migliora un'altra peggiora e questo è così questo momento particolare ci sono tante cose che noi possiamo imparare da questo se noi lo impariamo o no dipende da ognuno però una delle cose è il fatto che siamo tutti molto più connessi di quello che in realtà siamo consapevoli questo è un discorso c'è il discorso della fragilità dell'umanità che in realtà basta poco per metterci in ginocchio e allo stesso tempo la cosa più importante che ci aiuta in questo è il rispetto che uno ha verso l'altro è l'unione che c'è tra le persone e anche la nostra propria resilienza la nostra capacità di affrontare le difficoltà molto importante il discorso di dover in qualche modo essere rimasti chiusi e tante altre parti sono ancora abbastanza chiusi a casa senza poter entrare in contatto con altre persone tutto questo periodo eccetera può essere un periodo meraviglioso come un inferno in casa dipende ovviamente quale è la base che uno ha già e come uno lo vive quindi a me io non mi sento di dire dovrete fare questo e quell'altro andrà tutto bene perché non è così perché se io sono a casa e io vivo con una o più persone con cui ci sono dei conflitti veramente forti profondi che non si vanno a risolvere in due settimane in un mese in certi casi diventa veramente difficile stare chiuso in certi contesti però per la gran maggioranza delle persone io credo che è un'opportunità nella quale noi possiamo rivedere quali sono le nostre proprie priorità e chiederci se vogliamo continuare a correre come abbiamo sempre accorso se vogliamo continuare a consumare nello stesso modo perché secondo me tante persone si sono accorte che stando tre mesi chiusi in casa non hanno bisogno di consumare tutto quello che consumano di solito non c'è il bisogno di avere così tante distrazioni continuamente e avere questo tempo di qualità con la famiglia tempo di qualità con se stessi un po' più di silenzio secondo me è fondamentale ed importante per tutti però io sinceramente mi preoccupo un po' perché credo che tante persone anche se sono stati chiusi in casa non sono stati raccolti non sono stati in silenzio perché con i media sociali e con tutte le distrazioni che ci sono ormai nel palmo della mano per dire uno difficilmente riesce a trovare quello spazio di poter ascoltare se stesso e stare in silenzio che è fondamentale nella vita per chiunque perciò io vedo in questa pandemia che stiamo avendo un'opportunità però è un'opportunità che purtroppo non vedo tantissime persone cogliere questo è un po' quello che vedo e quindi qualcuno mi chiede ah ma perché sta succedendo questo è perché siamo stati cattivi siamo vivi e nella vita ci sono atti ci sono momenti di salute ci sono interazioni che vanno bene che vanno male se noi guardiamo la nostra storia la nostra storia è fatta di momenti belli e momenti brutti grazie a tutti